e niente facciamo questa cosa asfaltata e il cielo però c'è brutto brutto c'è luna guarda siamo sicuri e non è che c'è tanta alternativa o smetterà piovanti e si spera dipende quanto piovanti però anche perché mi sembra che peggiori beh però in teoria stiamo andando verso il cielo azzurro sì beh oddio e verso di là si sta usando ma ora è esaurendo l'impernabilità della pelle ma cos'è un fiume c'è un fiume bello la mia visiera è talmente appannata che non vedo più sembra di essere in pianura padana al mese di dicembre porca vacca no ma dai andiamo a fare il posto croce domini che bell'idea del cazzo superò vieni non c'è nessuno ma cosa si mette in mezzo ancora nessuno vuota si vuole tanto questo qua la tutta un'altra corsia quindi non è che questo fa gran che dai adesso ce la fai a superarlo però allora qua c'è un altro passo maniva però boh non so rischiamo se vediamo che il tempo fa cagato andiamo indietro tanto la strada è quella lì che dovevamo fare occhio 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 ho perso il posteriore tantissimo eh io l'anteriore meno male che siamo venuti giù piano bene fans proviamo a fare il passo maniva farà cagare sicuro promettente no amore beh non lo faremo mai più se non andiamo a vedere com'è oggi beve bello comunque oh madonna ui 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 lala a cazzo cos'è